Elezioni amministrative ad Ortone, L'Ario Cocciola presenta la sua candidatura con l'appoggio di sei liste fatte da partiti e liste civiche. È una squadra che nasce da un afflato sociale, partito circa due anni fa. Abbiamo voluto unire l'area riformista, moderata, progressista con l'area civica. E questo ha portato, abbiamo avuto un riscontro abbastanza ampio per arrivare a sei liste. C'è anche dell'altro tempo da percorrere, quindi è una squadra che nasce proprio con questa intenzione, unire queste aree. Proprio per questo progetto politico siamo riusciti a mettere insieme queste sei liste, che hanno anche una tradizione e una storia nella città. Ortona popolare, abbastanza consolidata in città come lista civica. Abbiamo Ortona territorio, che ha una visione più diretta sulle esigenze delle nostre aree. Poi abbiamo Ortona coraggiosa, nasce dall'esperienza di Emilia Romagna coraggiosa, quindi ha una sua identità abbastanza collocata, forte. Abbiamo l'Udc, l'Unione Democratica di Centro, e Democratici per Ortona, che rappresentano un'area moderata. E il Faro, che ha già avuto in passato un'esperienza politica nelle scorse amministrative. Dunque non sono liste che nascono, tra virgolette, alla bisogna, ma sono liste che hanno una loro presenza sul territorio. Qualche giorno fa il candidato Marcheggiano ha fatto un appello a lei, per andare tutti uniti, per andare anche alle primarie eventualmente. Sì, ho letto l'appello. Diciamo, noi siamo nati due anni fa. Marcheggiano, la candidatura Marcheggiano, che è un amico, il rispetto. Abbiamo fatto anche un percorso insieme nella prima fase. È nata il 13 febbraio fa un mese, quindi capite bene che è un appello che arriva dopo un percorso molto lungo, che poteva essere lanciato all'epoca. Guardate, le forze politiche per poter fare le primarie devono sapere che chiunque vinca possa realizzare il progetto dell'altro. Se non si fa un percorso insieme, non sono primarie. Che Ortona vuole? Noi vogliamo un'Ortona coesa. La nostra identità politica, territoriale, deve essere di una città unita, dove nessuno rimanga indietro, ma che abbia anche una visione. Puoi asfaltare, ma se non hai una visione, noi ci teniamo attorno, abbiamo i negozi chiusi. Allora, la nostra città è una città che guarda il futuro, che guarda l'Europa, che guarda i più fragili, ma che guarda anche alle nuove generazioni che non devono andare fuori. Ma per fare questo, ZES, PNRR, Piano del Magnale Marittimo, Piano Regolatore Portuale, ma anche Piano Regolatore Generale, sono una progettualità ormai dimenticata. Quindi possiamo asfaltare quello che vogliamo, ma se non c'è una visione, se non c'è una progettualità di crescita, non faremo nulla.